La funzione che dobbiamo studiare è questa. Di solito, in un esercizio di questo genere ci viene dato un intervallo nel quale studiare la funzione. Questo intervallo corrisponde a un periodo completo, e quindi possiamo dedurre che il periodo di questa funzione è π. Negli esercizi più difficili il compito di determinare il periodo, operazione non sempre facile, è lasciato a noi. In descrizione trovate un link al mio video sul calcolo del periodo di una funzione goniometrica, che approfondisce l'argomento. Disegniamo un sistema di assi cartesiani da avere sempre a portata di mano. È molto comodo avere sempre un riferimento cartesiano disponibile, in modo da aggiornarlo ad ogni passaggio con le nuove informazioni raccolte. In questo sistema di assi segniamo gli estremi del nostro intervallo, perché sarà questa la parte di piano di nostro interesse. Possiamo al momento oscurare le altre regioni, che completeremo poi al momento di tracciare il grafico, sfruttando la periodicità della funzione. Il primo passaggio è la ricerca del dominio. Poiché la funzione è fratta, dovremo imporre il denominatore diverso da zero. Questa espressione equivale a coseno di x diverso da zero, che ha come soluzioni generali x diverso da π mezzi più kπ. A noi interessano quelle presenti nell'intervallo che stiamo considerando, e allora possiamo scrivere x diverso da meno π mezzi e x diverso da π mezzi. Questi saranno i punti di estremo nei quali dovremo andare a calcolare i limiti. Il secondo passaggio è la ricerca di simmetrie. Andiamo a calcolare f di meno x. Dopo alcuni passaggi, otteniamo un'espressione uguale a quella della funzione di partenza, f di x. La nostra funzione sarà allora pari, cioè simmetrica rispetto all'asse delle y. Per approfondimenti vi rimando al mio video in cui parlo delle funzioni pari e dispari. Il terzo passaggio è la ricerca di intersezioni con gli assi cartesiani, e quindi dovremo impostare due sistemi. Uno fra la funzione e l'asse y, di equazione x uguale 0, e uno fra la funzione e l'asse x, di equazione y uguale 0. Nel primo è facile calcolare il risultato sostituendo 0 alla x nella prima equazione, e ottenendo y uguale 1. La coppia x e y ci permette di individuare il punto A, intersezione della funzione con l'asse y. Possiamo rappresentare questo punto sul grafico. Il secondo sistema non ha invece nessuna soluzione, perché dopo la sostituzione, semplificando poi il denominatore, otteniamo 1 uguale 0, chiaramente un'espressione non vera. Quindi non si hanno soluzioni e la funzione non avrà intersezioni con l'asse delle ascisse. Il quarto passaggio è lo studio del segno. Dobbiamo imporre la funzione maggiore di 0, per trovare gli intervalli in cui è positiva, e quindi il suo grafico giace sopra l'asse delle x, e quelli in cui è negativa, e il suo grafico giace allora sotto l'asse delle x. In questo caso è facile notare come la nostra funzione sia sempre positiva, perché rapporto tra un numero sempre positivo, l'1, e un'espressione elevata al quadrato, che quindi sarà sempre positiva. Questo vuol dire che il grafico della funzione giacerà tutto sopra l'asse delle x. Allora possiamo oscurare la regione di piano inferiore, poiché siamo certi di non trovarci punti della curva. Il passaggio successivo è il calcolo dei limiti agli estremi. Come detto prima, i punti in cui faremo i limiti saranno meno pi greca mezzi e pi greca mezzi, estremi del nostro intervallo. Notiamo più precisamente che data la natura dell'intervallo, faremo il limite a meno pi greca mezzi più, cioè per valori infinitesimamente più grandi di meno pi greca mezzi, e pi greca mezzi meno, cioè per valori infinitesimamente più piccoli di pi greca mezzi. Vediamo il primo. Sostituiamo nel limite e sfruttiamo il fatto che il coseno sia funzione pari, e quindi in generale coseno di meno x è uguale a coseno di x. A pi greca mezzi il coseno vale 0, ma più precisamente per valori infinitesimamente più grandi di pi greca mezzi, appunto pi greca mezzi più, lo 0 è negativo, cioè è un valore infinitesimamente più piccolo di 0. Il quadrato riporta tutto al segno positivo, e possiamo concludere che il limite vale più infinito. Con un ragionamento simile ricaviamo più infinito come risultato anche del secondo limite. Possiamo riportare questi risultati nel diagramma cartesiano, segnando con dei tratti il comportamento della curva agli estremi. Questo vuol dire che per x uguale più e meno pi greca mezzi abbiamo asintoti verticali. Possiamo riassumere questo risultato ricordando che la funzione è periodica, e allora avrà asintoto verticale per x uguale pi greca mezzi più k pi greca. E giungiamo allo studio delle derivate, a partire dalla derivata prima. Non vedremo il calcolo della derivata ma vi rimando ai miei video sull'argomento. Derivando si ottiene questa espressione, non definita per gli stessi valori per i quali non è definita la funzione. Iniziamo imponendo la derivata prima uguale a 0 per ricercare i punti stazionari. Ragioniamo fattore per fattore. Il denominatore chiaramente non si può annullare. Il 2 è un numero sempre diverso da 0, e allora dovremo risolvere seno di x uguale a 0. Fra meno pi greca mezzi e pi greca mezzi, l'unico valore che annulla il seno è 0, e sarà questo il punto di cui dovremo andare ad indagare la natura. Per vederci più chiaro, imponiamo la derivata prima maggiore di 0, per trovare gli intervalli nei quali la funzione cresce, derivata prima positiva, e decresce, derivata prima negativa. Per risolvere la disequazione fratta, studiamo separatamente i segni di numeratore e denominatore. Possiamo tralasciare il 2 perché è un numero sempre positivo e non cambia il segno della frazione. Infatti il segno più non cambia mai i segni. Più per più rimane più e meno per più rimane meno. Nell'intervallo che stiamo considerando, il seno è positivo fra 0 e pi greca mezzi. Il coseno è sempre positivo tra meno pi greca mezzi e pi greca mezzi, e di conseguenza anche il coseno al cubo lo sarà. Riportiamo i risultati delle disequazioni, e poi ricaviamo il segno finale della derivata moltiplicando i segni intervallo per intervallo. La funzione decresce da meno pi greca mezzi a 0 e cresce da 0 a pi greca mezzi. Allora in 0 avremo un punto di minimo assoluto, che corrisponde al punto A, e che si ripeterà in tutto il dominio per periodicità. Riportiamo anche l'andamento della derivata prima per averlo a portata di mano quando andremo a tracciare il grafico della funzione. Passiamo ora allo studio della derivata seconda. Ha questa forma e la possiamo semplificare ulteriormente ricordando che per la formula fondamentale della goniometria il cosquadro di x è uguale a 1 meno il senquadro di x. Otteniamo questa espressione che sarà più maneggevole. In alcuni casi, se le funzioni sono piuttosto complesse, viene chiesto di saltare il calcolo della derivata seconda. In quei casi si può disegnare un grafico qualitativo della funzione con le informazioni raccolte fino allo studio della derivata prima. Anche la derivata seconda è un'espressione che non è definita negli stessi punti nei quali non è definita la funzione iniziale. Imponiamola uguale a 0 per cercare punti candidati ad essere punti di flesso. Ragioniamo come prima, fattore per fattore. Escludendo l'annullamento del denominatore, il 2 è una quantità diversa da 0. All'interno della parentesi abbiamo una quantità certamente positiva o al più nulla, perché prodotto di una quantità positiva, il 2, è di un'espressione variabile, ma al quadrato è quindi positiva o nulla. A questa quantità è sommato un 1 e di conseguenza neanche l'espressione tra parentesi può annullarsi perché sarà sempre positiva. Ne deduciamo che non esiste valore di x che annulla la derivata seconda e la funzione non ha flessi. Studiamo ora il segno della derivata seconda per trovare gli intervalli in cui la funzione ha concavità verso l'alto, derivata seconda positiva, e verso il basso, derivata seconda negativa. Possiamo ragionare sul segno di ogni fattore senza andare a risolvere la disequazione fratta. Come detto prima, l'espressione tra parentesi è sempre positiva. Il 2 è un numero positivo e a denominatore abbiamo un'espressione alla quarta potenza, quindi sempre positiva. Essendo formata da elementi sempre positivi, la frazione sarà sempre positiva e la derivata seconda sarà sempre maggiore di zero. Allora la nostra funzione avrà sempre la concavità rivolta verso l'alto. E giungiamo ora al disegno del grafico, passaggio finale del nostro studio. Abbiamo riportato le informazioni che abbiamo raccolto e ora possiamo estenderle a tutto il dominio, grazie alla periodicità della funzione, che si ripeterà identica in ogni intervallo di ampiezza pi greca. Seguendo le indicazioni possiamo tracciare il grafico della funzione in ogni intervallo. Grazie per aver visto questo video. Se ti è stato utile clicca mi piace, iscriviti e commenta se hai un dubbio riguardo a questa lezione. Ci vediamo alla prossima e buono studio!